e più snella. Ti vedo così felice, Lucia. Sai cosa farò? Ti voglio regalare un altro active posture. Roberto, stai dicendo davvero? Non ci posso credere! È il migliore regalo che mi abbiano mai fatto! In questo modo puoi farlo provare ad una tua amica o ad un tuo parente. Dal momento che me lo hai dato, lo indosso sempre, sia a casa che quando esco a fare la spesa. Dato che non si vede sotto i vestiti, lo indosso sempre e nessuno lo sa. Esatto, Lucia. Dal momento che non si vede, nessuno sa cosa sta indossando. Questo è solo un segreto tra te e me. È stato un piacere, Lucia. Arrivederci! Grazie, Roberto.